Ciao a tutti ragazzi e buon pomeriggio dal vostro Eppegame, oggi andiamo a dare soprattutto alcune notizie a quanto riguarda il Milan due notizie molto importanti, una è soprattutto la notizia di Leao che sta cercando tutto il modo per rinnovare col Milan l'altra è soprattutto la brutta notizia che è quella dove Magnanesi infortuna ancora una volta quindi il suo rientro è rimandato, quindi nel suo appuntamento viene rimandato, non sarà disponibile contro il Monza dovrà giocare Tata Rosano, brutto infortuna perché si ripete sempre lo stesso punto del corpo parliamo del Polpaccio che veramente si sta creando un grande problema per questo infortunio è che il Milan è davvero pensieroso su questa situazione e sta veramente pensando a come risolverla Stefano Apiglioli quindi deve rimandare soprattutto la formazione che voleva schierare quella con Magnanesi, metterà a posto suo sicuramente Tata Rosano poi parliamo della situazione di Leao che a quanto pare la causa con lo sport di Lisbona è stata persa e quindi dovrà in poche parole pagare quel debito che aveva con il club portoghese e il Milan sta pensando soprattutto a una soluzione che è quella di rinnovare il contratto per quanto riguarda il portoghese che si parla di almeno 6-7 milioni di euro anni e in più vuole aiutare il giocatore a saldare questa multa con lo sport di Lisbona oppure ancora di più se non accettasse tutto questa trattativa il Milan si metterebbe soprattutto a disposizione a aumentare tutto l'ingaggio che va da 7 milioni in poi praticamente secondo le indicazioni di Massara e di Maldini sono veramente fiduciosi e cercheranno in tutti i modi di rinnovare soprattutto il contratto dei giocatori che è un contratto veramente importante un giocatore veramente importante che può fare la difenza in questa squadra e sta cercando oltre alleao a rinnovare anche altri contratti si parla di contratti come Ben Nasseri che vogliono aumentare e vogliono aumentare altri contratti di altri giocatori in poche parole vogliono mantenere lo schedo della squadra in modo da dare soprattutto una squadra compatta che si conosce e una squadra che gioca usando la forza del gruppo e portarla soprattutto nei prossimi anni e solamente vuole anche aumentare l'asticella di tecniche e qualità per quanto riguarda la rosa del Milan un'ottima idea per quanto riguarda la dirigenza la nuova dirigenza del Milan quindi questo è tutto ragazzi fatemi sapere attraverso i commenti cosa ne pensate di queste due notizie notizie veramente importanti ma è brutta tutta la notizia dell'infortunio di Magnani che dovrà ancora stare in tribuna dovrà ancora stare fermo e quindi il Milan non può usare la carta Magnani soprattutto in porta per avere tanta sicurezza e per giocarsi soprattutto le tre competizioni dove partecipa che sono la Serie A, la Champions League e la Coppa Italia speriamo che rientri al più presto un bocca al lupo da tutto il nostro Mike Magnan ci vediamo alla prossima bella ragazzi ciao 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 ciao